Il Parlamento italiano si riunirà il 24 gennaio per iniziare a votare per un nuovo capo di Stato in sostituzione dell'uscente Sergio Mattarella, il capo della Camera Bassa del Parlamento ha stabilito martedì. L'elezione di un nuovo presidente della Repubblica potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro del governo del presidente del Consiglio Mario Draghi, che sta cercando di contenere un'ondata di contagi da Covid-19. Draghi ha chiarito che vorrebbe diventare presidente, ponendo fine al suo governo di 11 mesi e lasciando il Paese con la scelta di insediare un nuovo premier o di indire elezioni un anno prima del previsto. Un'elezione anticipata potrebbe significare grossi problemi per Bruxelles poiché i recenti sondaggi hanno messo i candidati di destra Matteo Salvini, Lega, e Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, in posizioni di primo piano. I due leader euroscettici si contendono il primo posto nei sondaggi con il Partito Democratico, PD, di centrosinistra, ma i numeri sono vicini. Numerosi sondaggi a novembre hanno mostrato che la Meloni è in testa ai sondaggi con fino al 21,2% dei voti contro il 20,3% per il Partito Democratico e il 19,2% per Salvini. Un sondaggio del termometro politico, svoltosi tra il 21 e il 23 dicembre, ha visto la Meloni raggiungere il 21,3% contro il 19,2% e il 20% rispettivamente di Lega e PD. La Meloni è sempre stata molto critica nei confronti dell'UE. Durante un'intervista nel 2018, ha elogiato la sovranità come la difesa della famiglia, dei confini, dello Stato nazionale e dell'identità. Come Matteo Salvini, anche lei è una strenua sostenitrice del primo ministro ungherese Viktor Orban.